Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse, accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse, accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti, la grazia innaturale di Nishinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva, Nievski, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti, per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fiocca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire.